buonasera 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 ben trovato senta da due giorni tutti ma proprio tutti grandi e piccini come si diceva stanno parlando di due influencer che si sono separati chiara ferragni e fedez ma con tutti i problemi che ci sono perché la gente secondo lei in questo momento a queste urgenze ma non credo che sia un urgenza credo che sia una rilassatezza generale non ne possiamo più di problemi che non riusciamo a risolvere e quindi ci mettiamo al balcone a vedere chi passa sotto sotto casa ma questo è sempre successo non è così interessante ministro valditara vorrebbe vietare i tablet e cellulari in classe lei d'accordo io sarei per avere un po più di coraggio perché se questo è un argomento buono e giusto e secondo me lo è per tante ragioni che non abbiamo qui il tempo di dire ma ma ci sono scientifiche beh bisogna proseguire anche nella media superiore perché è lì che poi con l'intelligenza artificiale cammineremo su un diruppo faccio una domanda forse da un milione di dollari ma gliele voglio fare la scuola ha perso centralità nella formazione di un ragazzo beh ha perso da un bel po di tempo perso c'è questo indebolimento della scuola che figlio del disinteresse dei genitori perché sono i primi genitori a non ritenere la scuola l'agenzia più importante che ci sia guerra di prossimità prince e pandemia dal sapore medievale però la differenza rispetto al passato che la viviamo in prima persona con i social si stava meglio senza i social è che i social sono una via breve per l'anestesia quando una un'immagine viene reiterata non mille ma dieci milioni di volte quell'immagine perde il suo sapore emotivo una fotografia drammatica penso non so falcone quella fotografia di quell'autostrada ha avuto un impatto su di noi terrificante se quella stessa fotografia la fai 10.000 volte con qualcuno che si fa anche il selfie quelle emotività non c'è più stiamo perdendo quello che è la radice dell'umanità grazie buona serata torno studio